Dopo un infrasettimanale decisamente opaco, ci si aspettava una reazione da Varese, Varesina e Castellansese. Due e mezzo su tre. I biancorossi si rialzano alla grande dopo Borgosesia, giocano alla pari e piegano l'alcione nel finale con l'inzuccata di Cottarelli. Tutto facile per la Varesina, che a Venegono superiore domina 5-0 la Real Calepina, mettendo in mostra tutto il suo potenziale offensivo. Il 4-2 di Villa Dalmè sembra ormai un lontano ricordo. Stenta a ingranare la Castellansese, che nonostante una buona prestazione, non va oltre lo 0-0 con il Villavalle. Il Legnano era invece chiamato a una conferma, dopo tre clean sheet consecutivi e sette punti. Invece, i Lilla crollano malamente sotto i colpi di un Caravaggio scatenato. 8-1 il finale, con doppietta dell'ex Varese Carmine Marrazzo.